Anticipazioni tempesta d'amore, mercoledì 3 aprile 2019 Il matrimonio di Alicia e Vittor è ormai alle porte e i due ragazzi sono molto emozionati. Devono però purtroppo superare ancora qualche piccolo ostacolo. Xenia può contare sull'appoggio di Henning al suo fianco. La donna però non ha fatto i conti con un piccolo problema. Jessica intanto cerca di sabotare la relazione tra Romy e Paul e si serve di una serie di perfidi e spedienti per uscire nel suo intento. Pertanto fa una proposta alla ragazza che accetta dopo qualche attimo di esitazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.